Il comune di Acicatena ha istituito lo sportello punto famiglia di accoglienza utente rivolto a famiglie, coppie, figli, ai bambini e dagli anziani. Un luogo dove trovano riscontro le esigenze di una famiglia moderna. Vengono individuate le opportunità di crescita e di confronto e servizi di cui si necessita. Lo sportello fornisce alla famiglia sostegno, collaborazione, orientamento, consulenze socio-psicologiche e sociali in ordine ai rapporti interpersonali della coppia e della famiglia per problemi connessi al bambine. L'idea centrale che sta alla base del progetto è quella di offrire sul territorio una risposta tempestiva alle difficoltà che possono incontrare i giovani e le loro famiglie. Si aggiunge a questa idea con questo progetto che prevede un incontro settimanale a titolo gratuito che avrà la durata di due anni rinnovabile da svolgersi presso un'adeguata struttura segnalata dall'amministrazione. Grazie.